L'universo è come un enorme santuario pieno di segni che ogni persona dovrebbe cercare di captare e comprendere. Tutto è segno per chi vuole leggerlo come tale. Ogni segno rimanda ad una realtà più profonda. Dico questo perché, in fondo, la realtà è la presenza di Dio. Dico, generalmente percepiamo la realtà materiale che non è ancora quella reale, mentre non percepiamo la realtà divina la quale è proprio quella reale. È reale chi è sempre esistito, è immortale e dona l'essere a chi vuole, come Lui. In effetti è Lui che ci ha donato l'essere ed in Lui tutti sussistiamo. Senza di Lui non esisteremmo. Quindi è Lui il vero essere sussistente. Noi esistiamo per partecipazione al suo essere. Riconoscere questa realtà è l'inizio della nostra volontà di glorificarlo. È giusto lodarlo e ringraziarlo e riconoscerlo come il nostro unico Signore. Il nostro pensiero dovrebbe essere rivolto sempre a Lui in continuo atteggiamento di adorazione. In Lui Dio Trinitario perché viviamo nel suo dinamismo amoroso come il Padre Creatore, il Figlio Salvatore e lo Spirito Santo Rigeneratore.